in questi mesi di lockdown abbiamo purtroppo imparato a conoscere bene cosa sia un tampone ma in questi giorni sentiamo sempre più spesso parlare di esame sierologico di cosa si tratta in realtà e quali sono le differenze con un tampone la prima grossa differenza da cui deriva poi il nome stesso sierologico è che l'esame viene condotto sul sangue sono due i possibili approcci sangue venoso quello più affidabile prelevato per esempio da una vena del braccio come succede quando andiamo a fare gli esami in ospedale e sangue capillare su cui si basano alcuni test rapidi quando il sangue viene prelevato dopo una piccola puntura effettuata sul dito come per esempio succede ai pazienti in terapia diabetico quando andiamo a misurare la glicemia in farmacia quali sono le differenze rispetto a un tampone facciamo un breve riepilogo delle informazioni che ci restituisce il tampone il tampone è una fotografia una fotografia scattata in un preciso momento che ci permette di dire in quel preciso istante se sulla mucosa analizzata sia o meno presente rna virale sostanzialmente ci permette di dire in questo momento è presente oppure non è presente il virus all'interno dell'organismo a prescindere dai eventuali sintomi il sierologico adotta invece un approccio completamente diverso va alla ricerca nel sangue della presenza degli anticorpi anticorpi che sono la risposta del nostro organismo al virus la linea di difesa principale nei confronti del virus le informazioni che ci permette di ottenere l'esame sierologico sono in qualche modo complementare quelle del tampone quindi non si sovrappongono ma le integrano per capire come interpretare l'esito di un sierologico e soprattutto comprendere che tipo di informazioni può fornire e tuttavia è necessario capire cosa succede all'interno dell'organismo nel momento in cui viene contagiato poniamo il caso che io venga contagiato in questo momento se fra un minuto venisse sottoposto al tampone risultarei negativo il virus è sì già presente sulle mucose ma non in quantità tale da poter essere rilevato passa qualche giorno il virus riesce a replicarsi e aumenta di quantità il tampone probabilmente a un certo punto inizierebbe a positivizzarsi se tuttavia venissi sottoposto all'esame sierologico questo sarebbe ancora negativo l'organismo in qualche modo non si è ancora accorto non ancora risposto alla minaccia la quantità di virus raggiunge più o meno il picco nel momento in cui compaiono i sintomi febbre tosse secca magari difficoltà respiratorie dopo qualche giorno questo a cavallo del picco di quantità del virus cioè quando il virus è presente in concentrazione massima sulle mie mucose e anche il periodo di massima contagiosità tampone ovviamente ancora positivo sierologico probabilmente ancora negativo passa ancora qualche giorno se tutto va bene io inizio a migliorare e inizio a migliorare perché l'organismo si è accorto dell'infezione si è accorto della minaccia e ha cominciato a rispondere risponde essenzialmente perlomeno dal nostro punto di vista per quello che ci interessa sapere oggi attraverso la produzione di due tipi di anticorpi gli anticorpi igm e gli anticorpi igg i primi gli anticorpi igm sono quelli che vengono prodotti più rapidamente e la reazione più rapida più immediata dell'organismo alla minaccia compaiono quindi in maniera abbastanza precoce e sono tuttavia destinati a scomparire dopo qualche settimana dall'infezione gli anticorpi igg al contrario richiedono qualche giorno in più per comparire e quindi per essere rilevati dall'esame del sangue ma durano molto molto più a lungo pensate per esempio che gli anticorpi igg per la varicella una volta contratta la malattia o sottoposti al vaccino persisteranno nel sangue per tutta la vita se la stessa cosa succederà anche per il coronavirus purtroppo ad oggi non lo sappiamo ancora come non sappiamo se si acquisisce immunità una volta contratta l'infezione questo a questo risponderanno gli scienziati nei prossimi mesi come interpretiamo l'esito di un sierologico gli esiti possibili sono quattro li vediamo in ordine cronologico igm negativo igg negativo entrambi gli anticorpi sono negativi entrambi non sono presenti nel sangue questo significa che il paziente probabilmente non è mai venuto a contatto con il virus oppure il contatto è così recente da non aver ancora dato modo e tempo all'organismo di produrre gli anticorpi caso 2 igm positivo igg negativo questa è la fase attiva dell'infezione quando sono presenti sintomi si ha una prima risposta dell'organismo igm positivo che tuttavia non sia ancora sufficientemente organizzato per sconfiggere la minaccia gli igg sono ancora negativi c'è poi un periodo di tempo qualche giorno più presumibilmente qualche settimana in cui entrambi gli anticorpi risultano positivi igm positivi e igg ultimo passo gli igm andranno a scomparire gli igg persisteranno per qualche settimana per qualche mese per qualche anno ancora non lo sappiamo però questo rappresenta l'ultimo passo igm negativo igg positivo e tuttavia molto molto importante ricordare che sia tampone che sierologico sono fotografie scattate in un preciso istante della vita di un paziente il fatto che un sierologico sia negativo così come negativo possa essere un tampone non significa che l'istante dopo tutto possa cambiare quindi questo è molto molto importante quando si valuta la condizione di un paziente bene abbiamo visto cosa cos'è un sierologico e come interpretarlo ma i sierologici disponibili sono tutti uguali ovviamente la risposta è no abbiamo già accennato prima al fatto che esistono sierologici rapidi effettuati su sangue capillare prelevato da da un dito la cui affidabilità è generalmente inferiore a quelli effettuati su sangue venoso ma ci sono almeno altre due caratteristiche che sono molto importanti nel definire quanto un test sia affidabile sensibilità e specificità anche in questo caso cercherò di semplificare il più possibile i concetti la sensibilità è un parametro che ci permette di conoscere quanti soggetti effettivamente contagiati quindi quanti pazienti malati di coronavirus risulteranno poi positivi all'esame sierologico poniamo il caso di analizzare 100 pazienti che sappiamo per certo essere infetti se la nostra sensibilità se la sensibilità del test serologico che stiamo usando è non inferiore al 90 per cento questo significa che analizzando 100 pazienti infetti probabilmente 10 di essi risulteranno negativi si tratta quindi di un falso negativo si parla invece di specificità di un test nel caso opposto prendiamo 100 pazienti negativi che sappiamo per certo non essere mai venuti a contatto col virus e quindi non presentare alcun tipo di anticorpo se li sottoponiamo al nostro test sierologico che poniamo per esempio avere una specificità pari o comunque non inferiore al 95 per cento significa che otterremo comunque 5 risultati positivi 5 risultati sbagliati o più correttamente falsi positivi questi due numeri che ho portato ad esempio sensibilità non inferiore al 90 per cento e specificità non inferiore al 95 per cento sono in effetti le due caratteristiche richieste ai laboratori che stanno collaborando col ministero della salute per la campagna nazionale cosa dire di questi valori sembrano valori discretamente buoni no in fondo siamo oltre il 90 per cento in effetti si sono sono discretamente buoni noi avremmo bisogno di test eccezionalmente buoni tanto per farvi un paragone parlando di HIV una malattia che studiamo e conosciamo da ormai da decenni abbiamo a disposizione test con sensibilità e specificità superiore al 99 per cento la differenza fra questi numeri sembra tutto sommato minima invece è sostanziale si può dimostrare infatti matematicamente che se come presumibilmente nel nostro caso una malattia è poco comune sul territorio poniamo il caso per esempio che abbia colpito il 5 per cento della popolazione una delle stime più diffuse a proposito del coronavirus sul suolo italiano ebbene si può dimostrare che con i test che stiamo usando se la malattia è realmente diffusa per un 5 per cento della popolazione ottenere un test positivo significa avere solo il 50 per cento di probabilità che questo esito sia corretto più o meno come lanciare una monetina so cosa state pensando vista così sembrerebbe questo punto inutile fare un test se faccio un test ottengo un positivo e tanto non so dire se sia se sia realistico o meno tanto vale farlo la politica attuale del ministero è corretta il test serologico effettuato su un campione rappresentativo della popolazione è l'unico modo che abbiamo per effettuare una stima ragionevolmente precisa della diffusione del virus sul territorio attraverso alcuni strumenti matematici di cui disponiamo di statistica è possibile tenere conto di questo margine di errore e ottenere quindi alla fine una buona approssimazione della diffusione che il dato che vuole ottenere il ministero resta un'ultima cosa da dire ammettiamo per un attimo dimentichiamoci di questa affidabilità del test sensibilità e specificità poniamo il caso che siano che siano affidabili test che ottenere un risultato positivo significa la certezza di aver contratto e quindi superato se stiamo bene il virus questo significa per usare un termine che si sente usato piuttosto spesso in questi giorni che abbiamo un patentino di immunità che possiamo star tranquilli che possiamo tirare un sospiro di sollievo e che possiamo finalmente andare in giro senza mascherina assolutamente no no e per due ragioni principali uno non sappiamo ancora se siamo contagiosi o meno potremmo aver si sviluppato gli anticorpi ma portare ancora il virus sulle nostre mucose e quindi rappresentare un pericolo per gli altri seconda cosa ancora più importante allo stato attuale della ricerca quindi fine maggio 2020 non sappiamo ancora se l'organismo acquisti un'effettiva immunità a seguito del contagio la speranza forse anche un po più una speranza l'ipotesi che molti virologi stanno facendo e che si si acquisisca una certa immunità stimarne la durata in questo momento impossibile probabilmente almeno qualche mese e speriamo per sempre ma è troppo presto per dirlo ce lo diranno le ricerche pubblicate nei prossimi mesi a questo punto non mi resta che ringraziarvi per per l'attenzione per la pazienza io rimango a disposizione per qualsiasi domanda qualsiasi dubbio qualsiasi segnalazione abbiate si tratta dei miei primi video quindi non abbiate paura di presentarmi le vostre critiche segnalazioni di errore so di non sapere tantissime cose quindi cresciamo insieme segnalatemi quello su cui non siete d'accordo potete farlo nei commenti su youtube se mi state seguendo su youtube potete farlo qua sotto se mi state seguendo su uno dei siti in cui verrà pubblicato il video farmacocura valori normali cliccate sulla scritta youtube del lettore e vi aspetto lì vi ringrazio e vi saluto vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao